Salve ragazzi, questa è la mia seconda guida Come mettere la Smart Moving Questa mod aggiunge altri movimenti Iniziamo subito, scarichiamo questi 4 file Queste sarebbero la mod loader La mod loader mp La mc ap client E' la Smart Moving Per mod loader Andiamo su Accentuale App Data Accentuale Troveremo una cartella che si chiamerà roaming Clicchiamo Andiamo su .minecraft Bin E Questo file minecraft lo dovremmo aprire con gestione a scrivi winner Cominciamo a cancellare la cartella meta info E metteremo la mod loader La mod loader mp La mod loader mp App client E la Smart Moving Abbiamo il gioco Abbiamo il gioco Abbiamo il gioco Ok Perfetto Questa è la Smart Moving Cioè che da altri movimenti Come questo Che vi fa salare i blocchi Per esempio Non mi ricordo bene Non mi ricordo bene Perfetto Potrebbe fare anche questo movimento Per notare Aggrapparsi E Tuffarsi Però non mi ricordo come si fa Comunque Comunque questa mod è bellissima secondo me Perchè Aggiungi tutti i movimenti Ehm Niente Questa è la mod Presto ne aggiungerò altre Bella raga Perfetto